La cultura non solo come intrattenimento ma anche come vero e proprio palliativo per l'anima. Così da oggi il centro vaccinale del Teatro Tenda, concesso gratuitamente dalla Fondazione Guido d'Arezzo, avrà in filo di fusione musica classica. Da Beethoven a Chopin il personale medico e paramedico impegnato e le persone in attesa del vaccino potranno così godere della compagnia e il sollievo della grande musica d'autore. Questo contributo musicale vuole essere d'aiuto a tutti gli operatori impegnati in questa faticosa campagna vaccinale, ha dichiarato Lorenzo Cinatti, direttore della Fondazione, sperando che li supporti nelle lunghe ore di lavoro e allo stesso tempo speriamo che consenta di rilassarsi a tutti coloro in attesa del vaccino. L'arte e la bellezza sono per molti un conforto importante, soprattutto nei momenti difficili, ecco perché la musica non poteva mancare di essere la colonna sonora anche in un luogo così importante per la nostra ripartenza.